Dopo il derby, altra importante vittoria per il Lecco, che torna a fare tre punti in trasferta. A Carrara finisce 2-1 per i Blu Celesti, che raggiungono il quarto posto in classifica. La prima occasione della partita è per Magni, che da dentro l'area spara alto. A quarto minuto la squadra di D'Agostino rischia di subire il classico gol dell'ex. Giudici svetta più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa si stampa sul palo. Poco dopo i padroni di casa vanno in rete, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Scampato il pericolo, il Lecco torna a farsi vedere dalle parti di Pulidori. Prima foglia, sfiora il super gol con una botta alla fuori area. Poi ci riprova Magni, il suo tiro è debole. Alla fine ci pensa il neoacquisto Paolo Azzi, a buttarla dentro. Stop di petto in aria e tiro di controbalzo, che, complice una deviazione, gonfia la rete dei Toscani. 1-0. Incontenibile la gioia del brasiliano per la prima rete in blu celeste. La reazione della Carrarese è immediata, ma Pissardo non si fa sorprendere. D'Agostino è costretto a sostituire Bolzoni e Infortunato, a suo posto Marotta. I Toscani reclamano per un tocco di mano in area di Kauz. Dopo un rimpallo, l'arbitro lascia correre. Serve un super pissardo per negare il gol a Foresta, che a pochi passi dalla porta fallisce clamorosamente il tapin. Poco prima dello scadere del primo tempo, arriva il raddoppio dell'eco. Iocolano, da dentro l'area, trova un perfetto diagonale che non lascia scampo a Pulidori. Alla sessantesima i marmiferi accorciano le distanze. Murolo, partito in fuorigioco non ravvisato dal guardalinee, colpisce la traversa con un colpo di testa. E Marilungo, l'ex Atalanta Sampdoria Lecce, è il più lesto a ribadire in rete. La Carrarese ci prova due volte, ma senza grande convinzione. Il Lecco difende bene e in ripartenza va vicino al Tris. Noi abbiamo fatto una gara maschia, una gara dove abbiamo combattuto, abbiamo risposto bene, abbiamo trovato due bei gol. E questa è la Lega Pro. Umiltà, sacrificio, sappiamo che il gol lo facciamo. Mi dispiace per il gol che abbiamo preso, perché potevamo mantenere la porta inviolata. Però sono contento dell'atteggiamento, sono contento della prestazione.